Importante appuntamento con la formazione della polizia locale a Leporano. Gli agenti del comando guidati dal comandante Maria Rutigliano hanno concluso presso il castello Muscettola il corso di formazione Spraio C Defensive Tactis. L'amministrazione Damiano nella persona del vice sindaco nonché assessore delegato alla polizia locale Danilo II ha ritenuto necessario attraverso l'interessante sessione formativa l'ampliamento della conoscenza dei metodi applicativi delle innovative tecniche di autodifesa attraverso la approfondimento delle procedure previste dall'ordinamento giuridico e dei protocolli operativi di sicurezza. Gli Spraio C, il cui principio attivo è l'estratto naturale di peperoncino che crea una momentanea irritazione sulla pelle e sulle mucose con cui viene a contatto provocando tosse e lacrimazione rappresentano un nuovo strumento operativo di autotutela e di armamento volto a garantire maggiore sicurezza degli agenti nello svolgimento delle operazioni di servizio. Anche il nostro comando, sottolineano gli organizzatori del corso, è sempre in continuo aggiornamento al fine di rendere un servizio migliore per i cittadini leporanesi.